Questelle ieri sera al centro della puntata di Agora andate in onda sulla nostra emittente. Conflitti interni ma anche pubblici, tali da fare impallidire i partiti classici, il PD in primis, i quali sono campioni olimpionici in diatribe estenuanti che nulla portano come benefici alla collettività. Da quando il movimento pentastellato ha preso in mano la guida della città del Golfo, sono state solo frecciate al vetriolo che sono partite nei confronti della giunta grillina, proprio da quella base che ha sostenuto con forza la candidatura di Domenico Messinese a sindaco di Gela. D'altronde è inutile stare lì a nasconderlo, la vera opposizione all'attore giunta, l'opposizione più feroce e spietata, non la fanno quelli che per risultato elettorale dovrebbero stare all'opposizione, ma bensì buona parte del Movimento 5 Stelle gelese. Poi con il documento stilato giovedì mattina dal gruppo consigliare dei pentastellati, con il quale si sanciva la netta divisione tra la linea programmatica dell'amministrazione comunale e le idee della base, lo strappo è stato davvero definitivo. Salvo poi qualche distinguo che si è prima materializzato con la dichiarazione del capogruppo consigliere dei 5 Stelle, Sara Cavallo, che si è nettamente dissociata da quel documento, e poi proprio dal dibattito che è scaturito ieri sera ad Agorà, dove oltre al conduttore hanno arricchito la puntata del rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico di Canale 10 l'assessore dell'aggiunta messinese Francesco Salinitro e di consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Virginia Farruggia e Simone Morgana. A completare il parterre degli ospiti di Agorà anche il giornalista e blogger Eugenio Catania, fondatore del fortunato forum aperto su Facebook Gela Brainstorming. Alla trasmissione è poi intervenuta telefonicamente la stessa Sara Cavallo, capogruppo consigliere dei 5 Stelle, che ha chiarito in diretta la sua posizione e la situazione reale in cui versano i rapporti tra gruppo consigliere pentastellato e giunta 5 Stelle. Il tutto mentre la città brucia tra proteste vere ed alcune forse anche pilotate e problemi magari e certamente creati da altri, dove per altri si intende chi ha governato Gela negli ultimi 20 anni, ma che ora necessitano di essere affrontati e magari, perché no, anche risolti. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera alle ore 21 su Canale 10 oppure attraverso i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo a partire dalle ore 21 con nuovi ospiti e nuovi argomenti che riguardano, come sempre, Gela ed i Gelesi.